Una monografia critico-interpretativa, La Damia Bonanni, il potere vitale della donna, edito da One Group Edizioni, della professoressa Liliana Biondi, un altro tassello che si aggiunge all'opera di una scrittrice che per tanto tempo è rimasta sconosciuta e la cui narrativa invece è riemersa con prepotenza negli ultimi anni. Il volume raccoglie cinque saggi sulla Bonanni nati in occasione e tempi diversi tra il 96 e il 2014, ma che nel loro insieme tengono unita l'intera opera della scrittrice aquilana, dopo un escursus che inquadra la narrativa della Bonanni in ambito storico e socio-culturale e nei dileni all'asse tematico principale si analizzano i romanzi, l'imputata del quale la stessa Biondi ha curato una prima reedizione nel 2007, e le droghe. Ci si addentra quindi per esaminare un primo volume di Alzeviri e la critica, si ripigolano infine nell'appendice altri interventi e attività legati alle iniziative bonanniane, delle quali la Biondi è stata anche protagonista. Il titolo del libro e del resto sintetizza quella che è l'essenza della poetica della Bonanni, la quale ha come unica protagonista dell'intera sua opera letteraria la donna, spesso madre. Tutti questi lavori li ho raccolti, ho visto che avevano una coerenza, che era una coerenza mia, ma era una coerenza mia perché era coerente l'autrice. Ed è uscito anche una ipotesi che adesso sto sviluppando, che è una narrativa che è certo legata ai tempi in cui lei scrive, volta per volta, ambienta i romanzi, nel dopoguerra, negli anni del successo economico, negli anni della droga e del terrorismo. E poi questo lavoro della rappresaglia che sembra guardi al passato il periodo della resistenza, ma in realtà era sui generis. E lì è emerso che questa tematica non era una tematica legata ai tempi, ma era una tematica legata alla sua concezione della donna, che è una concezione della donna che è molto vicina alla madre natura, un po' perché in tutti i suoi romanzi la natura entra e interagisce con l'operato dei protagonisti, ma non dico neanche delle figure che non esistono le figure nell'opera della Bonanni, perché a tutte riesce a dare un'anima e dall'anima che dà emerge questa figura di donna, di questo potere vitale, cioè di questo potere tutto interiore alla donna che sa reagire a tutto quanto accade nella vita, nel bene e nel male, ma ne esce sempre vincente.